la prima volta che veni a cercare me stesso era perché stavo perdendo tutto un po come ora i messaggi arrivavano a migliaia guadagnavo come mai avevo fatto prima poi la crisi letteraria nessuno leggeva nessuno scriveva nessuno citava c'era una volta e io nel panico volevo capire cosa fare della mia vita cosa darei ora per un altro whisky no 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 Grazie a tutti. 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 Ah, quanti ricordi qui dentro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.